Scusi pescatore, come si pescano i totani? Pescatore? Non so, faccio caccia grosso. I totani noi non si prendono. In Giovanni si è fatto la prima gara del totano, si è vinto e non si è più fatto dare, siamo usciti i vincitori, 100 per cento, la prima gara è servita, ho anche sempre i premi, si va a salpare, c'è nulla di questi.